E' martedì grasso. E come festeggiano i londinesi, il martedì grasso. E stiamo andando alla ricerca di Victor. E adesso? Sinistra, dritti o destra? Ma attenzione! Forse è là quello che a noi interessa. Grazie! Siamo alla famosissima Pancake Race. Ciao! 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 Sì! Cosa non? Showmi! Wow! Abbiamo tre professionisti! Tre! Woo! Thank you so much! Buon luck! Siamo in un pacche! E' la racer? Siamo in un pacchetto. Siamo in un pacchetto. Siamo in un pacchetto. No, in un pacchetto. No, qui è in un pacchetto. Oh, abbiamo i partecipanti di varie categorie, come ci schiaga la signora. E poi? Dove si pensi che... Lui è rotta però, eh? La coppa sarà segnata al vincitore della Pancake Race 2016 Sì No Eccolo là, è parte lui Ricordiamo una cosa molto importante che il ricavato di questa manifestazione andrà in beneficenza quindi una manifestazione anche a scopo benefico Complimenti Un saluto da Vittoria Tower Garden e ci vediamo il prossimo anno per la Pancake Race Is ok? Thank you very much Bye bye